Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E sono Stef, che sei già chiamato for me? E benvenuti in un nuovissimo episodio di Portrait in cui... Ecco, quello che volevo dire In cui andremo alla ricerca della nuova balestra Che è stata messa proprio dieci secondi fa Quindi ci stiamo buttati nel gioco E speriamo di trovarla Allora, abbiamo panicato perché abbiamo detto Nuova, no flying server, dieci ore, non possiamo registrare Invece sembra, io dico sembra perché secondo me ci buttano fuori durante il game Che sia già tutto a posto, quindi possiamo già registrare C'è la nuova arma che è una balestra Munizioni infinite, dicono però che è lento a sparare Secondo me sarà anche scarso Dato che ha le munizioni infinite Però sono davvero curioso Comunque ovviamente siamo già scesi Stiamo cercando la balestra Ma non la stiamo minimamente trovando Niente di niente Spero che non succeda la stessa cosa del minigun E dove noi registriamo per quattro ore E non lo troviamo E poi quando non registri lo trovi in ogni accidente di game Fai il video con dieci balestre e cose così Però comunque noi andiamo a cercare Siamo un po' fuori dalla zona Passiamo da Parco Pacifico Magari troviamo qualcuno che la balestra l'ha lasciata per terra Perché non gli piace o qualcosa del genere No, è brutta la voglia Esatto Ne dubito Quando un'arma è nuova Secondo me se la prendono tutti Anche se fa schifo Senza ritegno Sì, sì, sì Comunque oltre alla balestra Aggiungeranno due skin di San Valentino Dovrebbero uscire credo stanotte a mezzanotte Non so bene cosa faranno Però di sicuro usciranno Noi le abbiamo già viste Bellissime Fantastiche Se non costano lira di Dio Tipo quattromila No, la compriamo Le prendiamo La compriamo No, se costano quattromila no Qualsiasi costo, Steph Fare player Nel tetto di una casa 165 Ok Hai un'arma decente Hai il cecchino tu Maledetta L'avrei già ammazzato col cecchino Fare Con il cecchino È quello che mi stai dicendo Sì, ma ce l'hai un fucile Sì Sì, sì, ce l'ho Ce l'ho Guarda Facciamo uno scambio Mi sembra equo Sì, mi piace questa Ho anche la daily con la pistola Quindi penso che andrò ad uccidere solo la pistola Steph Aspetta Mi serve per le daily Porca miseria No, non è morto Oh, aveva lo shield Già Guarda sotto Sotto costruiscono, eh Aspetta Dai, gli ho fatto i capelli Maledetto Pensavo si muovesse un po' di più Un attimo Ho visto un altro tizio, comunque Non so se è in squadra con lui, eh Non lo so Sembra un assalto a quella casa Ti dico la verità Eh sì, perché se uno sta dentro casa Che senso ha che l'altro costruisca Si sta chiudendo Sta facendo dei muri Quindi mi sembra Però quelli potrebbero essere anche per noi Hai un fucile a pompa? Eh sì Ok, quindi potremmo pensare di fare l'assalto Beh, Feri, in un modo o in un altro Comunque dobbiamo andare Perché la zona è abbastanza vicina Quindi ci tocca comunque correre Quindi mi sa che facciamo un assalto Si chiamerà l'assalto della balestra Perché secondo me loro ce l'hanno Puzzano di balestra Ma qui dentro c'è qualcuno Dentro questa costruzione Non credo Hai visto se sei spostato? Scusi, c'è qualcuno? No, non credo Per chi l'ho visto costruire Uh, di fronte, di fronte Lo vedi? No Lì, lì, lì Eh, segnale dello stop In quella direzione Non è dietro l'albero Eh, no, l'ho perso Ah, è andato dietro il benzinaio Non mi veniva la parola Pensiamo a questo? Ok Che tanto secondo me c'è ancora? Suppongo di sì Allora Vediamo Occhio, eh Pronti, eh Aiuto Aspetta, ci potrebbe essere una trappola? Mi sa che l'hanno ammazzato Eh, sì Prenditi il cechino Mi prendo anche questo, scusa Ok Andiamo? Eh, sì Mi ha un po' confuso sta roba Anche a me, però sì Sicuramente l'ha ucciso Quello è occhio, eh Perché era qui dietro È andato proprio qui dietro No, lo vedo, lo vedo, lo vedo Sta Aspetta, mi sa che ci ha visto Sì Sì Buongiorno Buongiorno anche a lei Alla balestra, mi scusi Perché noi stiamo cercando Quindi se ce l'ha Ci piacerebbe riceverla Mi sa che non è d'accordo, Steph Guardi che ce l'ha Ah, dove è di preciso? Perché si riuscì Fede alla balestra il maledetto Ma davvero? Sì No, la deve morire Tira fuori la testa un attimo Deve morire No, no Va bene Tira fuori la testolina, dai Siamo tutti pronti con il cecchino qua E dove sono io adesso, eh? Parta Dove sono io? Ora non lo sai, vero maledetto Tirala fuori quella testa Vai, Ferre, continua a sparare Lo massacro Uh, ha cercato di cecchinarmi Lo sapevo È distratto da me Spara, distruggi le scale Vai Boom Bravi, che piano perfetto Boom Maledetto Mamma mia Ferre, corri che c'è la zona Te l'ho detto che stava badando Slamme Contro la stella balestra e poi corriamo Ma vedo qualcosa di C'è un sacco C'è la balestra C'è la balestra C'è la balestra C'è la balestra, ce l'abbiamo fatta Eh, scildini, scildini, scildini Oh, butto questo come faccio nulla Prendi tutto Il pompa bello mi piace Andiamo Via, 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 via Guardala È viola Adesso Guardate No, ma è davvero dorata così Io pensavo fosse una mezzo trollate Che poi in gioco fosse normale Invece proprio di San Valentino Non è proprio di San Valentino Sei un cupido, Steph Se finisce di essere un cupido Sì, però Ho paura di morire Sinceramente Ho paura di morire Perché stiamo correndo Quindi ho paura che adesso ci ammazzino Ma voglio resistere Voglio provarla No, dai, non possiamo morire Ora che abbiamo anche la balestra, dai Appunto Quello È il momento importante È il momento importante del game Allora Ci mettiamo qua Dovremmo bullare Ma io non ho materiali Tu come sei messo a 267 Abbastanza bene Fammi vedere Ah, mira come un cechino Tipo io voglio colpire Quando sto a quel palo L'hai visto come sbrillucica? Sì Ok Guarda Pronta Vai Pim Ci mette un sacco Pim E a ricaricare quanto è lenta? Beh, dai, dai A me non dispiace Sinceramente me l'aspettavo ancora più lenta Molto peggio Infatti sì Non è così male Dove? Non lo so Però sentite Era vicino Aspetta 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 Qua c'è bisogno della seconda cuffietta Qua c'è bisogno della seconda cuffietta Ok Quest'arma Ricarico Secondo me sono al lago del bottino Quindi li potremo vedere da qui Probabile Sono quasi sicuro Ok Senti? Sì, sì, sì Allora Mi ho visto uno Ah, l'ho visto anch'io a nord-est Che si è buttato, giusto? Esatto Adesso si è buttato anche il secondo Dalla costruzione Sì, 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 sì Altro game dato che non siamo riusciti a provare la balestra Allora farei Quante gente hai visto? Io ne ho visto solo uno Io ne ho visto uno Però Mi sembra strano Perché ci dovrebbe essere anche il compagno Però io ne ho visto solo uno Stiamo comunque attenti Chi spara? Cosa? Ho sentito sparare Davvero? Eh sì Di già? Eh sì Sicura? Credo di sì Ho sentito un boom Cosa vuoi che sia Beh, magari Non lo so Qualcuno che sta facendo una festa Fere Potrebbe Stai zitto Sono concentrata 3, 2, 1 A terra Ok, bravo Ora c'è l'amico? Non so Non so Amico Fai un fisco se ci sei Non vorrei morire Sì c'è l'amico Dove? È lì sempre Io ho solo un fucile a pompa Quindi non è che si possa essere molto Uccisi Ok Come si è messo col fucile a pompa? Eh, non ne ho Ne ho trovato uno per te Ok Ok Vediamo cosa tutt'anno questi Beh 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 Hanno lutato bene per me Grazie 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 Io apprezzo tutto quello che voi avete preso Apprezzo il vostro impegno Adesso questa cassa mi dà la palestra No Niente? No Peccato Ok Allora Ho due shield Ma vieni Che vuoi? Ti ho portato il fucile Che tu te ne va Dammi sto fucile Scusa L'ho raccolto solo per te Steph Guarda cosa ti regalo Questo che ti piace Grazie Grazie A posto Ti ho fatto un regalo migliore È stato un bello scambio Secondo me il mio regalo era più bello Votate nei commenti Ma stai zitto Ma che votate Guarda Contentati di quello che ho trovato Ci sarà qualcun altro Perché potrebbe essere sceso Potrebbero arrivare In ritardo come spesso capita Secondo me potrebbero più che altro arrivare Perché comunque in questa città ovviamente viene un botto di gente Allora io mi tiro questo E mi prendo gli oscillini Perché tanto io di avere lo sluco dopo mi piace In sta casa è costruito eh Cosa? In sta casa è costruito Penso che mi abbiano anche tentato di sparare Ah Ok Oh c'erano tutte le porte chiuse Quindi questo qua ha avuto anche la premura di richiuderle tutte quante È bravo ragazzo Però poi ho visto che c'erano delle scale sicuramente per prendere una chest dentro casa Adesso ho sentito gli spari Ok Quindi penso che abbia tentato di spararmi Ok Stiamo attenti Stiamo attenti Sì 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 Sei tu vicino a me? Sì 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 Sotto a casa tua Che paura Ok Sfondo qua Sfondo qua Sfondo qua Dai chest Dacci qualcosa di buono Voglio provare la balestra Porca miseria Sono curioso Non sappiamo quanto danno fa Non sappiamo se fai danni di un cechino Non sappiamo nulla No certo certo Ok Questo un attimino concentrata che ho paura di ritrovarmi Sì Tranquilla Persone Cioè non sono sicura ci sia qualcuno Ma te l'ho detto mi è sembrato di sentire degli spari No potrebbe essere certo Eh sì Allora Ok un po' di maz Sono nella tua casa Ciao Sì ferli ho visti Ok Nord est Ok Aspetta Te ne serve uno di questo E uno di questo Vieni 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 Arrivo arrivo Tirati tutto Allora io cerco di continuare a capire in che posizione sono Dove cavolo sono finiti Uno ce l'ho di fronte Ok Ah ecco lì Tutti e due Tutti e due Ok Ovviamente c'hanno Tirati di shield Tirati di shield Eh volevo un attimino sparare Perché voglio vedere cosa faranno Però sì avevo ragione C'era proprio qualcuno Vai 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 Bevo bevo Ok loro ovviamente sono in quest'altra casetta Eccoli eccoli che sono usciti Guardali guardali Ci arriva addosso Ci arriva addosso dalla sinistra Vedi Sì Occhio eh Ok l'ho colpito un botto Spostati spostati Buttalo giù ti prego Ok ok Mi animami cavolo Mi è arrivato anche l'altro Non ce l'ho capito più nulla Un delirio Parco pacifico Quanto è pacifico Te l'ho detto che poi sarebbe arrivato A qualcun altro Qui arrivano sempre in ritardo Guarda Non chiedermi perché Sto il secondo regalo di oggi Grazie Prego Eh Allora 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 Ma dai ma sta balestra Per favore Dateci la balestra Give us the balestra Stiamo cercando E dopo una quarantina di chest Abbiamo ritrovato la balestra Vieni Steph Ci credi Ci credi che ho aperto una cosa Ok Aspetta Sinceramente non so neanche tenere il conto Però è una cosa come sei chest E guarda dove la trovi Sotto una scala Così Ah da sola era? Sì sì Così lì buttata Allora Faccio Cose che capitano Ok E Fere c'è una chest ancora Vero? Eh Può essere Era appena entrata in sto posto Quindi ne ho basta una Più, 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 più Eh Salve bella cesta Un'altra balestra No Allora Chiede è troppo Vabbè, vabbè, vabbè Questi a me servono Non so te Anch'io sono senza Totalmente senza Allora uno te lo do Ok Vieni Aspetta Fere c'è gente Ok Devo lo scudo Silenzio Cavolo Vieni via Ok Sono qui dietro Qui dentro anzi Vieni via Vieni via Vieni via Ok Occhio alla zona Che non mi voglio Dove sono? Ah non so Ho la balestra pronta Fere Ah le vuoi picchiare con la balestra? Eccoli Aspetta chi sparano? Sì soffitto Ah sparano lì nella collina Quindi fai attenzione Steph Perché gli altri ci vedono L'ho colpito Gli ho tolto Tipo 50 più 25 Ma la cosa che mi ha fatto ridere È che diventa Rosa Fuxia Stile San Valentino Vabbè Ok Bellissima comunque Quanto siamo lontani dalla zona? Fai vedere? Non troppo Però dobbiamo correre Perfetto Andiamo Vieni 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 Io direi di andare Perché se ci perdiamo in sto fight Rimaniamo qui Sì stiamo sempre attenti Ci vediamo fisso alle spalle Io mi volevo tirare anche lo shield Maledizione Vabbè però almeno abbiamo la balestra È blu Io l'avevo trovata epica Chissà di quante Rarità si può trovare Sì Eh non so Non so Però è curioso Magari c'è anche leggendaria Ho notato una cosa È silenziosa Ah Guarda senti? Vedi? Neanche l'ho sentito È armonioso È armonioso Infatti aveva un bellissimo rumore Vabbè sì in effetti Da dietro di noi Teoricamente ci arrivano player Beh se sono scappati Quelli che stavano fightando E credo che se non scappano Oh di fronte a noi Steph Ci punta Ci punta Ci punta L'ho visto Aspetta No si è nascosto Cerca di sparare seriamente Steph Io cerco di tenerci d'occhio Anche alle spalle Perché ho paura che ci arrivi qualcuno Adesso con la zona Capisci? Anche lui è alla balestra Siete ridicoli Ce l'hanno entrambi Ma ce l'hanno entrambi No Sono gelosa adesso Maia Guarda che fanno male Questi la sanno già usare Aspetta Ok A me non ho mai colpito L'ho colpito Sto ricaricando Io do un'occhiata anche alle spalle Ok Maledetti Fere buca Oh cavolo Ma pure Scusate Potevano usarla Fina subito Eh Potevano usarla Fina subito Senza problemi Che l'RPG Fere buca lì Bucca lì Vai di pompa Vai di pompa Fere Ok Uh ma è bravo questo Sì vabbè Anche se andavo di pompa Ma che dovevo fare Con lanciamissi Ti ha misilato Fere Ti ha misilato Eh beh secondo me Non è che ci posso fare molto Mi ha distrutto tutto Vabbè E' andata così Ragazzi riuscite Setticiamo il like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Iscrivervi Per non perdere gli altri Fisori Ciao Alla prossima Ciao Ciao